Il 14 novembre 1951 è ricordato per la tragica alluvione del Polesine, con il fiume Po che ha rotto gli aggini e ha causato una grande devastazione. Ci sono stati 84 morti e 180 mila sfollati. Le cause di questa tragedia sono diverse, tra le altre la pioggia incessante che da due settimane imperversava in tutto il nord Italia e che aveva interessato non soltanto gli affluenti alpini del Po ma anche quelli appenninici. Tutto questo insieme, oltre alla mancanza di prevenzione e anche di comunicazione tempestiva, ha causato poi questa grande tragedia. Però nello stesso tempo c'è stata anche una grandissima e fortissima solidarietà. Ricordiamo che in quell'anno erano passati pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale, l'Italia era ancora in grande difficoltà da vari punti di vista. Eppure c'è stata una solidarietà straordinaria, una raccolta di fondi in tutta Italia ma anche tantissimi volontari che si sono recati in Polesne ad aiutare. Anzi, altre famiglie hanno accolto nella propria casa, in tutte le parti d'Italia, gli sfollati del Polesne. Alcuni di loro, in particolare quelli che sono andati in Piemonte, non sono più tornati indietro nella propria terra di origine. A questo proposito io stesso ho avuto un'esperienza particolare. A metà degli anni 90 c'è stata un'alluvione in Piemonte, in particolare nell'Albese, nell'Alessandrino. Io ho incontrato una famiglia che era stata di nuovo alluvionata, che era originaria del Polesne ed era fuggita da quella tragedia del 1951. A metà degli anni 90 c'è stata un'alluvione in Piemonte.